Dobbiamo trovare Max. Presta la massima attenzione. Gli uomini di Max sono killer spietati che spareranno a prima vista. Fai attenzione a non coinvolgere dei civili. Conoscendo Max avrà sicuramente approntato un piano di fuga nel caso in cui le cose si dovessero mettere male. Ricorda, non ha certo a cuore la sorte di eventuali innocenti passanti. Appena la trovi sarà meglio metterla fuori combattimento prima di recuperare la lista Nock. Ci risentiamo quando avrai scoperto dove si trova con esattezza. La talpa potrebbe benissimo essere nei paraggi. Se così fosse stagli addosso e non permettergli di dileguarsi. Oh, spiacente. Ho localizzato una bomba. È nell'ultimo vagone, quello dei bagagli. È scommetto che Max ha il detonatore. Bel lavoro. Adesso non resta che sperare di raggiungerla in tempo. Mi scusi. Cosa? Niente. Spiacente di doverla trattare in questo modo, ma devo prendere in prestito la sua faccia. Cosa le è accaduto? Candice, ho trovato la lista Nock e il detonatore della bomba. Oh no! Max ha attivato il conto alla rovescia. Pebs! Ma allora sei tu la talpa infame! Spiacente, amico mio. Ho un treno da prendere. Addio. Spiacente, amico mio. Ho un treno. Ehi, azoto liquido. Quanto basta per congelare un peperoncino in un forno a microonde? Proprio quello di cui avevo bisogno. Una torcia esplosiva. Come se non facesse già abbastanza caldo. Candice, questa cassaforte è rinforzata con due cardini di metallo pesante e non ho niente con cui aprirla. Non è che riesci a trovare qualcosa nello scompartimento bagagli? Devo trovare qualcosa per aprirla. Eccoci. Ci siamo quasi. I cardini stanno per cedere. Eccoci. Ci siamo quasi. I cardini stanno per cedere. Eccoci. Ci siamo quasi. Eccoci. Ci siamo quasi. Eccoci. Ci siamo quasi.